buongiorno a tutti quanti ragazzi benvenuti sul canale gameplays un saluto dal vostro amico salvo in questa videoclip vi annuncio che il 7 febbraio andremo in diretta live su our legacy vedremo i sigili si aprono intorno alle 7 alle 8 quello che so se non dovesse essere così andremo alla mezzanotte perché io ho tre giorni di accesso anticipato come voi ben sapete detto ciò volevo parlare anche con voi sul fatto del gioco alcuni di voi che ringrazio mi hanno girato un link che praticamente si può fare l'assegnazione su our legacy tramite lo smistamento delle case e della bacchetta sul gioco è un sito che metterò il link sotto perché che sia interessato nelle descrizioni nei commenti tramite questo sito si può scegliere la bacchetta si può scegliere e la casa di appartenenza in che senso scegliere dovete fare delle domande automaticamente poi il sito stesso genererà in quale caso voi andate quindi non è ascetta libera questa è una cosa che non mi piace però se è così pazienza vedremo che casa uscirà nel sondaggio che io feci già un po di mesi fa lo dico adesso aveva vinto tasso rosso o tasso frasco come si dice adesso il secondo era corvo nero terzo grifondoro quarto serpeverde quindi noi quando giocheremo il sette lo faremo in live direttamente lo smistamento sceglieremo la bacchetta quella che uscirà è la stessa cosa per la casa di assegnazione così vedremo quale casa uscirà detto ciò ragazzi io spero che voi vogliate partecipare in tanti che nei tre giorni di accesso anticipato sono sicuro già di finirlo interamente al cento per cento tre giorni a voglia di giocarci quindi vi chiedo di fare passaparola tra i vostri amici vi aspetto in serata mi raccomando spero che vogliate partecipare come sempre prima di salutarvi vi chiedo un like un commento è una condivisione di questa videoclip io vi ringrazio sempre comunque ragazzi e vi do appuntamento ripeto il sette ok adesso io vi saluto ciao alla prossima ragazzi ciao a tutti ciao 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 ciao